Musica Lo sapete le puledre entrano in ordine di numero di pettorina dalla più piccola alla più grande Lasciamo agli handler il compito di fare la loro migliore presentazione per il campionato italiano Phyllis Yearlink Musica 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. del campionato italiano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.